Buongiorno, sono Giovanni Solofra e sono l'executive chef del Trollivi, ristorante nel sito nel Savoy Beach Hotel di Pestu. Il piatto che presenteremo oggi è Anima di Primavera, un nuovo piatto della Season 2021. Gli ingredienti che utilizziamo per questa ricetta sono fave, piselli, asparagi selvatici, carciofo, animella e ovviamente il nostro olio free. Per la preparazione del carciofo, parte importantissima di questo piatto, abbiamo scelto di utilizzare free, un olio perfetto per questo tipo di cottura perché valorizzeranno ancora di più il gusto del carciofo. Nella seconda parte, quindi della doppia frittura, le sue prestazioni ad alta temperatura ci daranno il vantaggio di non avere cattivi olori e sapori di rancido. Anima di Primavera è, come dicevamo, uno dei piatti simbolo del nostro logos creativo e della filosofia che accompagnerà questa nuova ripartenza. È un piatto dedicato veramente a una rinascita, già abbio disponibile, come appunto questi asparagi selvatici, questi fiori di borragine e queste primizie di primavera. Anima di Primavera perché, insieme alle primizie di stagione, abbiamo abbinato anche un'animella di vitello. La nostra cucina si muove cercando archetipi e scattando veramente delle foto istantanee su tutto quello che di meraviglioso ci circonda.